Una giornata importante per l'Ateneo d'Annunzio di Chieti Pescara il 28 febbraio prossimo. Il professor Sergio Caputi, per l'ultima volta in veste di magnifico rettore, inaugurerà l'anno accademico 2022-2023. Due momenti significativi, la nomina membro onorario del corpo accademico del professor Arben Giata, magnifico rettore dell'Università Medica di Tirana, e il solenne conferimento dell'ordine della Minerva istituito nel 1986, la massima onoreficenza concessa dall'Università d'Annunzio. Tra gli ultimi personaggi che hanno ricevuto la medaglia d'oro su cui è raffigurata la testa di Minerva, la scrittrice Donatella di Petrantonio, l'arcivescovo Bruno Forte e il maestro Giulio Rapetti in arte mogol. Ricordando l'aiuto che ha dato l'Albania durante il periodo Covid al nostro paese, abbiamo pensato così di ringraziare il primo ministro Edirama, conferendo a lui questa onoreficenza. Saranno presenti anche i diversi ministri dell'Albania, perché i contatti tra la nostra Università e i contatti di collaborazione ormai durano da veramente da tanti tanti anni e abbiamo avuto un rapporto sempre molto cordiale e costruttivo e poi come Università io credo che l'espansione della nostra Università verso i Balcani con delle collaborazioni sia una cosa molto molto importante. Un rapporto ventennale con l'Albania tra gli Atenei che hanno progettato viaggi studio e iniziative con l'obiettivo di favorire scambi culturali e che oggi sono diventate relazioni stabili la base ideale per i progetti futuri. Il famoso ponte verso i Balcani, secondo noi questo potrebbe essere un sigillo che l'Università ha voluto proprio portare avanti con grande passione e soprattutto questa vicinanza che sia concreta e non soltanto magari così su una carta geografica, perché poi anche la storia ci insegna quanto siamo in Italia, è stata vicina all'Albania e anche l'Albania a noi, per cui è un popolo che abbiamo di fronte a noi e quindi siamo pronti ad accogliere i maggiori rappresentanti di questa comunità così importante adesso per noi.